Buongiorno, buonasera. Oggi siamo in Tonti e abbiamo fila di un cellulare che non c'entra nulla perché mi è rifatto una cosa molto importante ma anche un buon giorno al mondo. Ora ve lo faccio vedere. Mi do tre secondi per indovinare. Uno, due, due e mezzo, tre. Avete indovinato? Scrivete i giorni commenti. Ora andiamo. È un po' vita a forma di ananas che lo sto cercando da un sacco di tempo. E ora sentiremo come scoppietta questa parte che ci sono le palline e siamo in altre parti. Ebbene, ora iniziamo. Allora, poi Lana è una stanza d'affortunata perché mi sto cercando un sacco di tempo e mi piace. Però lo volevo trovare a due colori, quindi mi arrangio, però per fortuna non lo ho trovato perché lo trovo giallo. Allora, da questa parte però devo dire che non è che scoppietta questa scoppietta, ma in sottofondo. Si chiudi l'abbiamo sordata questa scoppietta questa scoppietta questa scoppietta questa di nonostrazione. Okèguero la scoppietta questa scoppietta questa scoppietta questa scoppietta. tra questi corsetti uno due e il terzo il primo, il secondo e il terzo qual è il secondo? vi do 5 secondi uno due tre quattro cinque se l'avete indovinato ora io la potete vedere che dice necamente ora la vai decidere vedere quattro era questo se sguisate per questo il popolo non ora Aspettate 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 Aspettate